e la buongiorno benvenuti bentornati questo video verrà lunghissimo perché questo mese è stato molto proficuo parlando di letture visto che da lavorare tipo 12 ore al giorno mi sono trovata a lavorarne zero direi che ho avuto un po di tempo quindi prima di cominciare a parlare delle mie letture del mese di aprile vi ricordo di andare a guardare i link qui sotto in cui trovate sia i link di affiliazione per comprare questi libri sia i miei social in cui potete andare a seguirmi per vedermi pubblicare cose quando sono annoiata sostanzialmente in questo periodo si ci annoia particolarmente tanto bene cagate a parte e incominciamo subito visto che questo video sarà particolarmente lungo iniziamo da tra l'altro questo mese ho letto un numero pari di narrativa e saggi quindi sono molto fiera di me non perdiamoci in chiacchiere il primo libro è di su nettuno piovono diamanti di adrian partate pubblicato da rizzoli è il secondo libro di adrian partate partate l'allergia stava morendo di allergia nonostante sia chiusa in casa 24 ore al giorno devo morire di allergia dicevo su nettuno piovono diamanti è il secondo libro di adrian partate il primo è uscito un paio di anni fa chi non conosce adrian partate o link for universe si vergognasse e andasse subito a seguirlo perché parla di astrofisico in una maniera talmente appassionata che ti interessa anche se non ci capisci niente po io odiavo scienza della terra e alle superiori eppure quando ne parla lui potrei ascoltato per ore e ore in maniera proprio proprio pendendo dalle sue labbra con gli occhi a colcino e vale per qualsiasi argomento lui tratti è incredibile parlando invece del libro valgono praticamente le stesse cose che ho detto per il primo libro ovvero qual è il pubblico di riferimento in questo libro perché per come impaginato per il modo in cui sono messe lei ma molto fa molto pubblico di ragazzini tuttavia il modo in cui è scritto un ragazzino abbastanza intelligente può capirlo e godesserlo tranquillamente ma i bambini non sono il pubblico principale per cui è stato pensato quindi ovviamente cosa credo che si faccia quando stai pubblicando un libro di youtuber guardi quali sono i suoi qual è il suo di target e cerchi di prendere quello è il più possibile sostanzialmente avendo fatto già abbastanza vendite secondo me col primo libro in questo secondo nonostante sia molto interessante si nota che l'editing sia stato un po più un po più lasciato a se stesso avevo trovato maggior cura nel nel primo libro e si nota per il fatto che adrian fartade è un divulgatore scientifico ma non nasce come scrittore il suo modo di esporre le cose funziona perfettamente dal vivo dal vivo nel senso anche in video nella forma orale ma appunto per il scritto non vedi lui che ti dimostra quanto gli piaccia quello di cui sta parlando e quindi ti rende interessante anche la descrizione di una scatola di cereali capito? qui in questo secondo libro si nota che alcuni punti magari scende particolarmente nel dettaglio e diventano un po pesanti nel primo secondo me c'era stato un lavoro più più accurato di editing anche per quanto riguarda il modo in cui erano scritte alcune frasi in questo invece secondo me hanno lasciato un po più perdere però tendenzialmente sono mie impressioni leggendo e le confrontando i due libri quindi potrebbe essere anche una cagata ovviamente non è detto che sia così nonostante questo io apprezzo molto adrian fartade indubbiamente sono più interessanti i suoi video rispetto al leggere il libro bene e ora visto che non voglio che questo video duri un'ora intera io ho sei libri di cui parlare andiamo avanti secondo libro e mattone del mese direi venuto al mondo di margaret mazzantini in realtà è un romanzo un po vecchio di già 11 anni fa perché è del 2009 ed è anche diventato un film nel 2012 ho scritto una recensione un po più dettagliata nel mio blog quindi vi lascio lì in questo se volete andare a vederla è un libro pesantissimo allora vediamo velocemente la trama Gemma e suo figlio Pietro si ritrovano ad affrontare un viaggio nei ricordi a Sarajevo Gemma era stata a Sarajevo la prima volta nel 1984 per terminare la sua tesi di laurea ha incontrato il padre di Pietro Diego tra i due è scattata la scintilla per varie vicissitudini si ritroveranno a tornare a Sarajevo proprio nel momento della guerra e la loro storia d'amore travagliata si mescola e si sviluppa proprio con lo sfondo del massacro che stava succedendo in quella città vediamo man mano che la trama va avanti Gemma nel presente che ripercorre e si ricorda ciò che era accaduto nel passato è un libro estremamente pesante lo vediamo dal punto di vista di Gemma e vediamo in continuazione questa donna insoddisfatta dalla prima pagina quasi annoiata che raccontandoci la sua vita lo fa in un modo piuttosto tetro e sofferente nonostante alcuni punti siano essi in teoria dovrebbero essere estremamente felici come appunto lo scatto della scintilla con Diego e i loro primi anni da coppietta felice nonostante questi momenti più nonostante questi momenti più leggeri tutto il romanzo è ricoperto da una patina grigia e triste dovuti a come sono andate le cose e al carattere di Gemma mai soddisfatta della sua vita e che per un motivo che non voglio dire perché farei spoiler siamo immersi nel suo senso di inadeguatezza come persona e questo si ripercuote su tutto il romanzo e la porterà a fare anche azioni che se li tiri fuori così sembrano folli ma vedendo tutto lo sviluppo la si può anche capire ed è proprio questa capacità di entrare in contatto con il personaggio di Gemma che rende il romanzo ancora più pesante e difficile da affrontare a me è piaciuto tutto perché evidentemente sono un'autoilesionista a cui piace stare male anche per gli altri soprattutto se sono personaggi inventati appunto ti fa entrare nei suoi ragionamenti che dall'esterno sembrano completamente da fuori di testa però dici caggolo ma sì ha senso potrebbe avere senso mio dio è un romanzo veramente intenso e veramente veramente duro da mandare giù la guerra a Sarajevo non viene trattata come se fosse solamente lo sfondo piatto su cui i personaggi si devono muovere ma nonostante non è l'argomento principale di questa storia viene trattata con direi rispetto e dignità perché mi è capitata di vederla in un altro libro e l'ha usata meramente come mezzo per dire di aver ambientato qualcosa in un contesto difficile qui non è soltanto il contesto difficile in cui i personaggi si ritrovano per sbaglio ma è parte fondamentale sia dello sviluppo dei personaggi sia della storia stessa quindi sono molto contenta di averlo letto finalmente dopo averlo in libreria da quasi un anno e sono passata a un altro saggio Armocromia, il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine di Rossella Migliaccio edito dalla casa editrice Valliardi e sì lo sto leggendo perché il nome continua a non ricordarmelo ora sicuramente avete sentito parlare di armocromia è impossibile vivere in questo secolo e non sentirne parlare io continuo a non capire di che stagione sono se qualche esperto becca questo video fatemelo sapere teoria interessante questo libro ti dà un'introduzione molto molto generale un'introduzione che avresti potuto trovare anche da internet se avessi avuto voglia di leggere un articolo intero perché si ti spiega più nel dettaglio che cosa devi guardare quali sono tutte le varie caratteristiche peculiari di ogni stagione e in generale di quali gli servo osservare per capire e tuttavia è un po' dispersivo nel senso ti dice le cose ma trattando stagioni diverse ti ripete la stessa cosa solo con qualche sfumaturina diversa che alla fine serve solo a confondere di più le persone io lo scopo di questo libro l'ho visto come un ti dico talmente tante cose che tu non capirai e quindi se vuoi veramente capire qual è la tua palette e come farti l'armadio dovrai chiamare me sì lo so sono una persona terribile ma questo è quello che mi è sembrato avendo finito il libro inoltre questo libro di un 200 pagine scarse direi no vai 260 pagine e che costa la bellezza di tipo 16,90 euro quindi quasi 17 euro l'unico motivo per cui io capisco capisco non è vero per cui posso accettare questo prezzo è il fatto che abbia la copertina rigida però la carta usata è di bassa qualità e non ci sono foto che voglio dire un libro sui colori su come su una teoria sui colori e sull'abbinamento delle cose non ha neanche una fotografia esplicativa mi sembra un po' una cavolata detto proprio brutalmente le uniche immagini se possiamo definire le immagini sono le quattro palette delle stagioni messe all'inizio e alla fine del libro però sono state stampate su una carta ruvida che fa cambiare i colori quindi che senso ha? questo libro avrebbe avuto bisogno della carta lucida quella tipo dei libri scolastici in cui i colori si vedono vividi e non cambiati dalla stampa sostanzialmente e quindi non capisco il senso di questo libro è stata un po' una perdita di soldi e speravo di avere qualcosa di un po' più interessante da leggere invece mi sono ritrovata a sempre a leggere le stesse cose in un punto visto anche che aveva ricopiato palesemente la frase col copia e incolla quindi a posto e sì sono un po' delusa sono un po' delusa peccato poteva essere un libro interessante e invece non lo è possiamo andare avanti Tre donne di Lisa Taddeo edito dalla Mondadori uscito nel febbraio scorso e direi che la copertina è bellissima bellissima anche questo è un libro di non fiction in realtà perché Lisa Taddeo ci mostra le storie di tre donne che per un motivo o per l'altro hanno avuto casini con degli uomini possiamo definirla così la chiave di lettura e ciò che lega tutte e tre queste donne è il desiderio il desiderio come forza che guida sia i nostri pensieri che le nostre azioni e direi che questo è il periodo della storia in cui effettivamente ci rendiamo conto della cosa la prima di queste donne che è una ragazza di circa 20 anni che sta per affrontare una causa contro il suo ex professore del liceo con cui aveva avuto una relazione di qualche mese e che l'aveva assegnata profondamente fino al punto di non riuscire a levarselo dalla testa e dover raccontare ciò che era successo la seconda donna in questione è invece una donna sposata ma che il marito non desidera minimamente e l'unica cosa che agogna in tutti gli anni del suo matrimonio è semplicemente essere toccata dal suo partner la terza invece la terza invece ha un matrimonio dall'esterno felice e appagante lei e suo marito sono una coppia aperta nel senso che il suo marito le dice con chi altro andrà a letto e lo fa davanti al consorte cosa c'entrano queste tre donne l'una con l'altra? proprio che non so parlare di questo libro mi rendo conto mi è piaciuto tantissimo ma non ne so parlare perché è difficile non dire le cose e far mostrare il collegamento sembra un po' una boiata praticamente in tutte e tre le storie vediamo come siano incartate in una vita che non le soddisfa perché o che hanno semplicemente messo da parte i loro bisogni per favorire il marito o che si siano adattate a ciò che la società diceva loro che dovevano volere o pensano di fare qualcosa che effettivamente vogliono fare ma non sanno neanche loro se lo fanno perché lo vogliono loro o perché sia il marito in questione a volerlo fare non c'è un inizio una fine in questo libro semplicemente ci veniamo sempre più veniamo a conoscenza ovviamente sempre più di dettagli delle loro storie e vediamo come nonostante tutto nonostante si potrebbe avere il potere molto spesso non lo si non si fa quello che è meglio per se stessi anche senza una ragione specifica perché si pensa di volere quello che in realtà ci fa stare male come se si fosse bloccate in una situazione per colpa degli altri anche se di fatto non c'è nessuno che ti obbliga a restare lì ed è molto interessante come ci vengono i momenti che ci vengono mostrati e come lo so non sono molto esplicativa con questo libro è difficile è difficile però è molto bello io mi fiderei della mia parola tra l'altro non so neanche cosa rimarrà quando monterò quindi va bene e un punto centrale che accomuna tutte e tre le storie è il fatto che in effetti la la pressione maggiore che queste tre protagoniste sentivano molto spesso non derivava da degli uomini ma dalle altre donne che avevano e vabbè su questi temi c'è sempre da parlare un'infinità fidatevi di me questo libro è molto bello però se continuo così non finisco più questo video Dracula di Bram Stoker finalmente il romanzo epistolare che ha fatto praticamente nascere i vampiri come li abbiamo in mente noi oggi è stato pubblicato nel 1897 da ovviamente ovviamente da Bram Stoker l'ho già detto e questa bellissima edizione è degli Oscar Mondadori perché wow wow perché perché fanno cose così belle che poi io devo comprare è un romanzo epistolare allora non c'ha bisogno di introduzioni non c'ha bisogno di una trama più o meno la dovremmo conoscere tutti anche se dico così ma io per prima non la conoscevo però cioè non la conoscevo sapevo che c'era un bambino c'era il Conte Dracula e si sarebbe fatto qualcosa contro il Conte Dracula ed è di base questo ci sono alcuni punti che sono veramente interessanti e non riesci a staccare il naso dalle pagine molti punti però sono descrizioni su descrizioni su descrizioni di cose che non ti interessano e tu vorresti continuare a vedere come si sviluppa la trama ma ti devi perdere in tre pagine di descrizioni di descrizioni e ammetto che in alcuni punti ho letto velocemente le righe sono andate avanti la cosa bella di questo di questo romanzo è il fatto che non ti spaventa mostrandoti il mostro ma appunto la cosa che ti crea il disagio l'ansia è il fatto che le parti più spaventate non sono quelle in cui vediamo il Dracula ma sono quelle in cui possiamo solo immaginare che cosa stava succedendo ho trovato c'è un personaggio che vabbè il romanzo è inglese e c'è un personaggio che è di Amsterdam e lo fa parlare con l'accento in molti punti ho dovuto concentrarmi per capire che cavolo stessi dicendo perché poi è tra i personaggi che deve spiegare le cose quindi i suoi dialoghi sono fondamentali tu devi capire che cazzo sta succedendo grazie ai suoi dialoghi e sostanzialmente devi rileggere le cose tre cose per capire qual è il senso della frase ho capito che sto qui all'accento però mi devi scrivere male le cose per farmi capire che non so parlare l'inglese bene mi sembra un po' folle nonostante questo l'ho trovato molto interessante non sapevo niente del romanzo originale di Dracula e quindi sono molto contenta di averlo recuperato e sì non ho molto da dire perché dai è Dracula una lettura vale la pena farla soprattutto se nella vostra vita avete letto Twilight è come per pulirsi la coscienza per pulirti la coscienza dopo aver letto Twilight guardi come guardi quando i vampiri non scintillavano ed erano bloccati dall'aglio e poi decidi quale delle due cose più trash infine non mi freghi di Gioia Navarro un libro sul linguaggio un piccolo saggio sul linguaggio del corpo una guida più che altro sul linguaggio del corpo questo libro è molto vecchio la mia edizione del giugno del 2009 da sonzogno editore che non ho neanche mai sentito va bene e appunto un saggio una guida sui principali segnali segnali non verbali che dovrebbero aiutarti a capire quando metti a disagio le persone vi dirò se funziona no vabbè molte di queste cose le conoscevo già alcune no e è stato un ripasso interessante e infatti proprio perché molte cose le conoscevo già l'ho letto in due secondi il fatto è che questo libro diventa utile solo se tu poi quando parli veramente con le persone quando vedi delle interazioni tra le persone ti metti lì a pensare a cosa sta dicendo il loro corpo in confronto a cosa stanno dicendo loro e io mi dimentico quando esco in giro a parlare con le persone che magari potrei anche allenarmi a vedere il loro linguaggio non verbale che è il problema di base delle guide di autoaiuto se tu le leggi poi ti dimentichi perché però devi metterle in pratica tuttavia la cosa più interessante di questo libro e la cosa più utile che questo libro mi ha dato è il fatto che io scrivo quindi quando devo far interagire due personaggi ho più strumenti per farli pure muovere riuscire a mostrare che cosa stanno dicendo e che cosa stanno dicendo col loro corpo senza dirlo a parole posso mostrare un segno che significerebbe sono a disagio invece che dire il tizio è a disagio che se scrivete vi giuro è la cosa più fastidiosa che si potrebbe leggere in un libro ti blocca il corso del fluire della scrittura quindi per questo motivo per se qualcuno scrive conoscere il linguaggio non verbale diventa molto utile se non fondamentale vi dirò se riesco a capire se qualcuno è a disagio come tutti tutti quanti va bene direi che questo video è durato già abbastanza io ho finito se siete curiosi di vedere qualche recensione più approfondita ditemelo qui sotto e soprattutto vi ricordo che escono singole tutte le recensioni di questi libri sul mio blog quindi andate a seguirmi anche sul mio blog c'è un bellissimo tastino iscriviti anche se credo che uno debba avere l'account di wordpress vabbè vabbè vi lascio in qui sotto andate a seguirmi su instagram in cui pubblico tutti gli aggiornamenti e anche su facebook per lo stesso motivo vi ricordo che c'è la pagina di tosto d'ora con il mio codice sconto in cui potete trovare le magliette e i cuscini i poster e le cose e la pagina di coffee in cui potete donarmi un simbolico caffè per mandare avanti tutto questo tutti i video noi ci vediamo al prossimo video io vi saluto sono particolarmente provata in questo momento e ci sentiamo al prossimo video ciao